Ci sono dei vincoli all'utilizzo del credito d'imposta che prevedono una localizzazione delle spese sul territorio italiano, ma questo in verità è almeno il vincolo che è stato previsto nella legislazione italiana, è sicuramente più blando di quello che comunque è già abbastanza liberale della Commissione. E poi c'è il famoso vincolo dell'intensità di aiuto. Non si può accumulare tax credit e tax shelter e quindi le produzioni che canalizzeranno le risorse che verranno dirottate nell'investimento attraverso il credito d'imposta saranno anche le responsabili del rispetto di questi vincoli. Abbiamo un piccolo esempio, andiamo poi su una parte più operativa e in altri dieci minuti andiamo a chiudere, però evidentemente per dare qualche materiale di discussione, qualche cosa dobbiamo dire. Questo è l'esempio appunto di un film di interesse culturale con un budget da 3 milioni e 9, una quota produttore da 2 milioni, una quota distributore, cioè l'intervento del distributore nella produzione, quindi l'apporto, poi sulla modalità di questo apporto magari Gianmarco ci dirà qualcosa di più, è pari a circa un milione e la quota investitore di un altro milione. Il tax credit totale consumato è pari a 1.165.000, le quote sono ripartite in questo modo, cioè ognuno con la sua aliquota, quindi il produttore rispetto al 15% del budget di produzione, e il distributore il 20% del suo apporto, il produttore il 40% del suo apporto. Farei soltanto un esempio, prego. Su questo appunto forse è l'occasione per ricordare che mentre per il produttore il tax credit si utilizza in corso di produzione, per tutti coloro che fanno investimenti di natura finanziaria, quindi che si associano al produttore nella produzione, quindi sia l'investitore esterno, sia il distributore o l'esercente che decidessero di associarsi in produzione, il credito di imposta si utilizza al termine, quando il film è finito. Questo è importante perché possono anche decidere di associarsi al produttore nella produzione di quel film a film sostanzialmente finito, quindi possono in qualche modo prendere visione, ridurre quindi quel rischio di produzione che è uno dei rischi che tipicamente nel settore si deve cercare di risolvere. Allora io a questo punto velocemente sulla questione di coproduzione e poi andiamo sul ruolo degli investitori. Salterei i due esempi, uno e due, andare direttamente a una slide che è intitolata tax credit e produzioni esecutive, caso 3. Ancora avanti, ancora avanti, eccola qua. Per spiegare qual è il meccanismo che è stato pensato nel caso di coproduzione, in particolare di quelle produzioni che sostanzialmente sono produzioni esecutive in cui c'è una impresa appaltante e di fatto però la canalizzazione della spesa è tutta dirottata sul produttore esecutivo. Allora qui abbiamo previsto un esempio in cui c'è un film con un budget di 4 milioni di euro, le quote produttori però sono tutte riferite a un produttore uno, a un solo produttore, che ha il 100% del film, mentre il secondo produttore, che è il produttore esecutivo, di fatto ha soltanto un ruolo di produzione esecutiva. Abbiamo immaginato una divisione della spesa di questo tipo, appunto 500 mila euro sul produttore uno e 3 milioni e mezzo sul produttore due. Due, che cosa ci dice questa slide? Ci dice che una cosa è la fruibilità del credito e quindi l'utilizzo immediato del beneficio, un'altra è l'utilizzo del plafon rispetto al massimale di credito. Allora come vedete qui di fatto il plafon residuo rimane inalterato per il produttore esecutivo, mentre invece viene consumato, pro quote appunto, dal produttore appaltante. Vuol dire che il principio che è stato seguito, che regolamenterà i rapporti nelle coproduzioni, è quello che consente di ricondurre l'utilizzo del plafon alla proprietà del film e la fruibilità del beneficio al momento della spesa. È chiaro che non potevamo... È chiaro che la finalità è evidente perché solo così si garantisce che non ci sia un abuso da parte dei grandi soggetti che potrebbero, come dire, sparpagliare le produzioni per altri soggetti e indirettamente avere un superamento del limite dei 3 milioni e mezzo. Quindi il credito d'imposta aspetta chi spende il denaro per esigenze evidenti anche di controllo maggiormente possibile da parte dell'Agenzia delle Entrate, però ai fini del superamento del plafon si considera attribuito il credito d'imposta figurativamente al soggetto economico che ragionevolmente ne beneficia. Ora so che è un punto abbastanza dolente. Quanto ne beneficia uno e quanto ne beneficia l'altro è rimesso alla trattativa del mercato. Su questo è evidente che né la norma primaria né i decreti si sogneranno di intervenire su una negoziazione tra due parti, un committente, un appaltante e un appaltatore.